amici di guitar mind oggi davvero davvero un piacere presentarvi questo prezioso strumento di pietro gallinotti del 1956 appartenuto al chitarrista andrea dieci è uno strumento in palissandro quindi piuttosto raro per quest'epoca con una incatenatura tradizionale una bellissima tavola in abete e come al solito una mano finissima nelle decorazioni quasi scarne francescane tutto questo per un suono di una pulizia incredibile in tutti i registri è veramente un piacere presentare questi strumenti e poterli suonare grazie a tutti 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 grazie a tutti